Al palo evangelisti per la promozione in A1 della Sirsafeti Perugia, solo una formalità, l'ultimo match di campionato finito 3-1 per i padroni di casa. Allora seguiamo insieme Erika Baglivo. In tanti, tantissimi hanno voluto esserci, non tanto per vedere la gara contro Reggio Emilia, ma per salutare e stringere la mano di Vujevic e compagni. I ragazzi di Kovac hanno conquistato la promozione matematica domenica scorsa, ma in trasferta mancava dunque l'abbraccio diretto con i numerosi tifosi che li hanno seguiti e sostenuti in questa straordinaria stagione. E così ieri Perugia-Reggio Emilia, nella cornice del palo evangelisti, è stata l'occasione della festa, il momento per chiudere in bellezza una settimana di euforia. La gara finisce 3-1 per i padroni di casa, ma al risultato non ci pensa nessuno, c'è solo la voglia di celebrare una squadra partita da Bastia Umbra nel 1988 e arrivata in A1, centrando un obiettivo storico. Una promozione meritatissima, frutto di un lavoro continuo e dell'impegno di tutti. La Sir ha dominato il campionato inciampando solo poche volte. Nel tempo è cresciuta tecnicamente e tatticamente, ha saputo tirar fuori il carattere, insomma la sua è stata una stagione praticamente perfetta. Per questo la festa è stata ancora più grande e non è finita. Domani i vertici della società, giocatori e coach verranno ricevuti in comune per la consegna di un riconoscimento da parte della città. E noi continuiamo a parlare di volley. La Gerardi di Castello ha perso a tie-break nella trasferta milanese contro Chebanca per i Tifernati al quarto posto in classifica. Comunque non cambia nulla perché si erano già qualificati per i play-off promozione. Ieri si sono disputati anche i play-off dia 1 per la Energy Resources San Giustino II sconfitta in due partite. Dopo quella scontata contro l'Itas di Iatec e arrivata quella contro Roma al tie-break, la squadra esce così definitivamente di scena.